Vi chiedo di fare quest'ultimo sforzo, al caldo, col sudore, di prendere i sali minerali, non dimenticate che lo stress e la fatica saranno fortissimi in questi ultimi giorni, ma vi chiedo di trasmettere più che la gioia e il divertimento, l'emozione che viviamo nel difendere le cose che nel tempo abbiamo realizzato. Un'emozione che ci riempie il cuore, che ci dà tanta responsabilità. Quando metti insieme le persone sul no, tu poi sei nella impossibilità di governare, perché su cosa stanno costruendo il patto? Sulle idee di Salvini, sulle idee della Meloni, sulle idee di Berlusconi e di Tajani? E questi che idee hanno? Perché voi siete riusciti a capire qual è il modello di sanità di Salvini? Oggi abbiamo presentato i nostri candidati, abbiamo fatto incontrare il candidato Presidente con i candidati nelle nostre liste, perché è difficile per me andarli a trovare tutti, e quindi ci siamo fatti un briefing, come si fa prima di una grande operazione di protezione civile, o militare, o aziendale, o sanitaria. Ci siamo scambiati delle opinioni, ci siamo fatti coraggio a vicenda, e stiamo per partire per l'ultima settimana di campagna elettorale, che secondo me sarà quella decisiva, e quindi è stato molto utile ed entusiasmante incontrarli tutti.